La personalità e gli attributi di Mohamed. Mohamed era un uomo di carnagione chiara. Altezza poco sopra la media. Buona corporatura e ampie spalle. La pancia di profilo non sporgeva mai al di là del petto. Camminava in modo fermo sollevando un piede dopo l'altro dal suolo. I compagni del profeta lo descrissero come una persona affascinante, con un'ampia fronte, un naso dritto, lunghe ciglia, larghi occhi neri, denti perfetti e un sorriso piacevole. Aveva i capelli mossi e una barba folta. I suoi compagni descrissero il suo viso amichevole che assomigliava alla luna piena. Non rideva ad alta voce, il suo ridere era per lo più un sorriso da cui si intravedevano denti simili a chicchi di grandine. Il suo buon umore e la sua disponibilità erano percepiti da tutti.